Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di Thailandia, c'è un nuovo aggiornamento che facciamo sulla situazione della Thailandia, del turismo, come sapete ci sono sempre tante notizie in questo periodo negli ultimi giorni perché le cose stanno succedendo, quindi insomma per chi segue il canale per quanto riguarda la Thailandia penso che questi aggiornamenti siano utili, intanto come sempre questa che vedete da schermo è la mia playlist Thailandia del mio canale YouTube, ci sono ovviamente tanti video, tanti aggiornamenti, tutti che seguono appunto anche le ultime notizie che arrivano dalla Thailandia, ovviamente se ancora non hai fatto guarda questi video, commentali, lasciati anche un like e ovviamente fai anche per questo video, intanto iscriviti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale e lascia anche un bel like a questo video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, questo è molto molto importante come sempre ragazzi ora sigla e poi cominciamo anche questo episodio La Thailandia è classificata nei dieci posti più sicuri al mondo come travel destination, quindi come destinazione di viaggio notizia freschissima, sapete che periodicamente poi escono queste notizie soprattutto nel periodo nel quale i viaggiatori devono andare a scegliere la destinazione per i propri viaggi La Thailandia è arrivata all'ottavo posto secondo questa survey riguardo appunto i posti più sicuri al mondo come destinazione insomma nella sostanza abbiamo Canada, poi c'è l'Islanda, Svezza, Giappone, Irlanda, Svezza, Corea del Sud, Thailandia, Nuova Zelanda e Australia questi sono i paesi che questa ricerca su 1500 americani fa emergere la Thailandia come uno dei posti ancora più sicuri al mondo ed effettivamente per chi è stato in Thailandia poi la percezione della sicurezza è una cosa che va assolutamente riconosciuta a tutte le ore del giorno e della notte, è difficile a meno che insomma qualche raracezione è difficile avere problemi di questa tipologia o comunque di sicurezza per quanto riguarda appunto i viaggi in Thailandia Sicuramente questa è una notizia che ripeto si colloca soprattutto in questo periodo di scelta appunto per quanto riguarda i turisti dove andare ma soprattutto nel piano che il governo thailandese ha quello di dare questo nuovo lustro alla Thailandia post-pandemica nei prossimi giorni poi parleremo di questa strategia di comunicazione che sta adottando la Thailandia l'altra notizia di oggi secondo me è ancora più interessante effettivamente si va a chiudere un po' un cerchio per quanto riguarda insomma questa fase che è durata veramente tanto tempo per quanto riguarda la Thailandia che a Phuket è atterrato il primo aereo con 324 turisti che entreranno in Thailandia con le nuove regole quindi non dovranno fare di fatto nessun test PCR o di alcun tipo all'arrivo appunto in Thailandia in questo caso a Phuket riprendiamo questa notizia da Bangkok Post un aereo appunto della Qatar Airways aereo QR 842 a terra 324 persone appunto a Phuket sotto le restrizioni agevolate e questo è successo domenica mattina quindi poche ore fa questo è sicuramente ripeto molto molto importante perché testimonia come il turismo thailandese non aspettava o comunque il turismo chi voleva appunto le case in Thailandia non aspettava altro che appunto questa agevolazione sarà interessante e credo che poi il governo thailandese lo farà rendere pubblici poi i numeri che si verificheranno da qui alle prossime due settimane perché sapete che la Thailandia ha così reso pubblica la stima di voler raggiungere 5 milioni di turisti quindi per quanto riguarda il 2022 5 milioni di turisti poi che sono da raggiungere con un tot di turisti al mese quindi sicuramente la Thailandia si aspetta che appunto già da oggi tanti turisti arrivino in Thailandia questo perché poi il secondo o comunque lo step successivo sarà quello magari di andare a togliere anche l'applicazione del Thailand Pass ci sono opinioni diverse anche in Thailandia riguardo al Thailand Pass vedremo quello che decideranno poi nelle prossime settimane sempre per quanto riguarda il Thailand Pass la notizia però positiva ripeto è che finalmente ed è realtà si possa atterrare in Thailandia senza alcuna tipologia di tampone o di controllo per chi poi è vaccinato completiamo poi le notizie di oggi con qualche numero per quanto riguarda la pandemia i morti che scendono sotto i 100 numero incoraggiante per quanto riguarda i casi oggi sono soltanto 11.500 insomma anche questo è un segnale che la situazione è in netto miglioramento sappiamo che anche questi dati sono continuamente monitorati dal CCSA importante poi per proseguire e non avere nessuna tipologia di problematica per quanto riguarda poi le prossime settimane ovviamente ragazzi come sempre andremo avanti a monitorare quella che è la situazione appunto della Thailandia perché insomma ci sono ancora tante novità che ogni giorno arrivano quindi vi terrò aggiornati come sempre sul canale come sempre nel frattempo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate in particolare appunto finalmente dell'arrivo dei primi turisti senza questo test and go o comunque senza alcun tipo di quarantena scrivetemelo qui sotto e se anche voi state pensando di recarvi in Thailandia a breve come sempre ragazzi se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale lasciate un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube come sempre ragazzi grazie per aver visto il video come sempre ci sentiamo nelle prossime giornate con nuovi video per quanto riguarda la Thailandia un abbraccio e a presto a presto